Inflazione. Cos'è e quali sono i suoi effetti? Suo giù? I prezzi salgono o scendono? Nelle economie di mercato, i prezzi di beni e servizi possono variare in qualsiasi momento. Alcuni aumentano, altri diminuiscono. Si parla di inflazione quando assistiamo a un rincaro ampio riferito a numerose unità, non limitato a singole voci di spesa. L'inflazione è definita come l'aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi. O, se vista dal punto di vista del consumatore, si può anche definire come diminuzione del potere d'acquisto, e quindi del valore, della moneta. Ecco i 10 punti principali per capire cos'è l'inflazione e come si calcola. Paniere per il calcolo dell'inflazione l'Istat usa un paniere di riferimento composto di beni e servizi che variano al variare delle abitudini d'acquisto delle famiglie nel corso degli anni. Il peso attribuito a ciascun bene o servizio, dei quali si monitora l'andamento dei prezzi, però non è uguale. Si attribuisce un peso maggiore alle variazioni relative a beni e servizi per i quali i consumatori spendono di più, come l'energia elettrica, rispetto a voci di spesa meno significative, come i francobolli. Gli individui, inoltre, non effettuano tutti gli stessi acquisti. Le singole famiglie hanno abitudini di spesa diverse. C'è chi è vegetariano, chi mangia la carne, chi compra il pane, chi i prodotti senza glutine. Le abitudini di spesa medie dell'insieme delle famiglie determinano il peso da attribuire ai diversi beni e servizi nel paniere usato. Per la misurazione dell'inflazione Paniere ponderato I beni e i servizi nel paniere possono essere considerati anche con un peso differente a seconda della popolazione, alla quale ci si riferisce per calcolare l'inflazione. Fasce di reddito più basse, ad esempio, subiscono molto più di più l'aumento dei prezzi alimentari, destinando gran parte della propria retribuzione nell'acquisto di questi beni. L'Istat distingue tra indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, NECA, quello per le famiglie di operai e impiegati, FOI, e l'indice armonizzato europeo, IPCA. L'inflazione non è uguale per tutti Il peso di ciascuna unità nel paniere di riferimento cambia a seconda dell'indice usato per il calcolo, cioè delle finalità per le quali si effettua la stima dell'inflazione e della popolazione di riferimento. Calcolo dell'inflazione Il tasso di inflazione sui 12 mesi corrisponde al prezzo del paniere totale in un determinato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Valore della moneta davanti a un aumento dei prezzi L'unità di moneta consente di acquistare una minore quantità di beni e servizi. Si dice che il valore reale dell'unità di moneta risulta inferiore rispetto al passato, soprattutto se i prezzi salgono più velocemente dei salari. Inflazione buona e cattiva se tenuta sotto controllo e generata dalle giuste cause, l'inflazione è una tendenza positiva, i prezzi crescono perché cresce il PIL, quindi si registra un'espansione economica e quindi anche gli stipendi dovrebbero aumentare evitando che le famiglie perdano potere d'acquisto. Un'inflazione buona di questo tipo spinge la crescita, in genere anche grazie alle politiche monetarie delle banche centrali. L'inflazione cattiva invece è l'aumento dei prezzi che non supporta la crescita, accade ad esempio quando i prezzi aumentano perché la domanda supera l'offerta. In questo caso siamo in presenza di uno squilibrio e non di una spinta economica positiva. Teorie dell'inflazione Gli economisti della scuola monetarista sostengono che l'inflazione è generata da un aumento della quantità di moneta eccessivo rispetto all'aumento della produzione di merci. Secondo Keynes, invece, a generare l'inflazione è l'eccesso della domanda globale sull'offerta globale in una situazione di piena occupazione, a prescindere dalla quantità di moneta immessa in un sistema economico. C'è poi una scuola economica che sostiene che l'aumento dei prezzi da parte delle imprese è dovuta a un aumento dei costi di produzione, mentre l'economista inglese A.W. Phillips sostiene che le cause dell'inflazione vanno ricercate nelle variazioni salariali nel mercato del lavoro. Inflazione importata ai paesi le cui economie sono interconnesse a quelle di altri paesi possono anche importare l'inflazione. Esposti a questo fenomeno sono ad esempio i paesi trasformatori delle materie prime. L'inflazione può essere importata anche da paesi che hanno un avanzo nella bilancia dei pagamenti o attraverso la svalutazione del cambio che rende costoso reperire valuta per pagare le importazioni dall'estero e quindi determina un aumento dei costi per le imprese. Importatrici di materie prime Effetti dell'inflazione se il potere d'acquisto della moneta diminuisce a causa dell'aumento dei prezzi delle merci, gli individui si orienteranno verso l'acquisto di beni rifugio come oro o immobili, i cui prezzi aumentano e che pertanto sono in grado di preservare il loro valore. In un'economia aperta, inoltre, l'aumento dei prezzi fa diminuire la competitività internazionale delle merci e quindi le esportazioni. Se il paese in cui i prezzi aumentano velocemente attua una svalutazione per accrescere la competitività delle proprie merci, si può Creare anche una spirale inflazione-svalutazione Controllo dell'inflazione e il controllo dell'inflazione è una priorità delle banche centrali moderne. La BCE punta ad esempio a mantenere un livello di inflazione ottimale al 2%. Questo tipo di politica monetaria è alla base della teoria dell'inflation targeting, della pratica cioè dei banchieri centrali di Annunciare ai mercati un obiettivo programmatico di inflazione e di impegnarsi al suo raggiungimento con interventi sui tassi di interesse, di riferimento monetario e sulla liquidità di moneta. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fort-Niedergrenod, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. Che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione. Finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica, il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare. Quanto diminuire vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una Offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE, unicamente per finalità illustrative. PICTE Asset Management PICTE Asset Management PICTE Asset Management PICTE Asset Management